Voci.fm trailer, i doppiatori dei film più belli. La gente segreto più famoso della storia del cinema. Il suo nome è Bond, James Bond. Dopo aver lasciato i servizi segreti, Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica. Tuttavia, la pace conquistata si rivela di breve durata, quando il suo vecchio amico Felix Slater avrà bisogno ancora una volta del suo aiuto. Daniel Craig, Lea Seidu, Rami Malek in No Time To Die. Un film di Carrie Fukunaga. La voce di James Bond, interpretato da Daniel Craig, e di Francesco Prando. La voce di Lucifer Safin, interpretato da Rami Malek, e di Francesco Pezzulli. La voce di Madeline Swan, interpretata da Lea Seidu, e di Elena Perino. La voce di Noomi, interpretata dalla Shanna Lynch, e di Chiara John Cardi. La voce di Ernst Stavro Blofeld, interpretato da Christoph Waltz, e di Stefano Benassi. La voce di Q, interpretato da Ben Wischoff, e di David Chevalier. La voce di Yves Monipenni, interpretata da Naomi Harris, e di Stella Musi. La voce di Felix Slater, interpretato da Jeffrey Wright, e di Roberto Draghetti. La voce di Garrett Mallory M, interpretato da Ralph Fiennes, e di Andrea Lavagnino. E la voce di Paloma, interpretata da Ana De Armas, e di Joyce Altarelli. Direzione del doppiaggio, Sandro Acerco. Hai ascoltato Voci.fm Trailer, i doppiatori dei film più belli.